non voglio infortunarla tanto io sono qua allora vediamo un po' se ci si vediamo così allora io sono qua con questo signore che è il nostro mito vivente signori che Albertosi mi fa un saluto anche il mio amico Romano che è un suo grandissimo fan ciao Romano, tanti auguri grazie, guarda che sorpresa una cosa meravigliosa, che meraviglia